Allora, noi chiediamo l'istituzione del registro sull'endometriosi, registro che già esiste in altre regioni italiane. Lo chiediamo oggi perché nei giorni passati, in occasione della giornata sull'endometriosi il 19 marzo, la Lorenzin ha anticipato che l'endometriosi sarà inserita nell'EA, quindi nei livelli essenziali di assistenza. E siamo convinte che un'istituzione del registro possa innanzitutto sensibilizzare la regione sulla problematica e sulla patologia dell'endometriosi e possa creare maggiore informazione. Infatti l'endometriosi è una malattia che colpisce più di 3.000 donne solo in Italia e ha dei riscontri molto forti all'interno della vita sociale delle donne, in quanto è una patologia che porta a gravi disturbi e soprattutto non permette a queste donne di vivere una vita regolare. E soprattutto, motivo in più perché si debba essere sempre più informati su questa patologia, è una patologia che viene riconosciuta tardi e spesso provoca anche l'infertilità delle donne. La Lorenzin, la ministra, ha proposto l'inserimento nell'EA dell'endometriosi del terzo e quarto grado. Noi chiediamo oggi alla regione di inserire anche il primo e il secondo grado, proprio perché è una patologia che invalida le donne nella vita e soprattutto non è ancora riconosciuta come una patologia a livello lavorativo. Quindi spesso queste donne si assentano dal lavoro ma non sono giustificate. Ed è anche una patologia molto costosa perché le spese sono notevoli. Quindi con il riconoscimento a livello nazionale, con l'istituzione del registro, noi crediamo che la Basilicata innanzitutto possa adeguare anche alle altre regioni che hanno già istituito addirittura delle leggi regionali perché la Puglia ha istituito una legge nel 2012 e adesso invece ha chiesto l'istituzione dell'osservatorio e del registro. Noi chiediamo l'istituzione del registro.